Eccellenza, qual è la buona notizia sulla nuvoletta? La buona notizia è sicuramente quella che, tanta grazia di Dio, pur in questo tempo difficile sta piovendo e ancora di più verrà. La speranza ci aiuta a intravedere in questa nuvoletta proprio il desiderio di Dio di farci ripartire in tutte le cose, nella vita spirituale, nella vita ecclesiale, nell'economia, nel lavoro. Lo scrigno in cui dobbiamo tenere Maria, qual è? Lo scrigno in cui dobbiamo custodire il mistero mariano è lì dove abbiamo le cose più preziose della nostra vita. E lì dove abbiamo le cose più preziose della nostra vita è la nostra coscienza. Dunque è lì che al centro c'è il Signore, che è la stella radiosa della nostra vita. Lei ha concluso dicendo che dobbiamo in qualche modo tenere conto di una restaurazione, forse del nostro cuore, quando parliamo dei sentimenti, quando parliamo anche della fede? Certamente, quando si guarda Maria di Nazareth si vede la distanza tra ciò che siamo e ciò che dovremmo essere, perché lei è un modello perfetto di vita evangelica. Quando guardiamo una creatura fatta di carne, di sangue come noi, che però si è messa totalmente a disposizione di Dio, emergono tutte le nostre piccole indisponibilità e quindi la vera spiritualità mariana è anche una spiritualità di continua conversione. Penso che nel senso della fede la gente intravede nella figura del Vescovo, di un nuovo Vescovo, il segno di una grazia di Dio, di un'attenzione, di la cura di Dio per una comunità. E io infatti, quando guardo, con quanto affetto il Signore mi guarda, capisco che l'attenzione non è a me, che sono una matita nelle mani del Signore. Invece l'attenzione a lui, io sono segno di una realtà più grande che è Gesù, buon pastore, in mezzo alla sua comunità.